Qual è il calzino X-Shox? Un benessere anche per il nostro piede, quindi una termoregolazione anche per il piede, piede sempre asciutto, piede che non ha più vesciche, problemi di vesciche, quindi una calza tecnica come la nostra aiuta sicuramente il runner ad avere innanzitutto una performance buona sul piede, quindi sulla scarpa che va a comprare. Running Pants Medium Ormai l'inverno è vicino, quindi c'è chi preferisce avere la gamba un po' più libera, è una via di mezzo tra il pantalone corto, il short e il long. Dunque in X-Pionica ha entrambe le tre versioni, in questo caso io indosso la Medium, qua abbiamo i benefici sia della compressione che della termoregolazione. Mentre per la parte superiore indosso una Speed manica lunga con Tarter Neck, quindi collo alto e zipina. Questa permette, grazie alle sue proprietà, la lavorazione della tridimensionalità posta su tutte le zone dove si suda di più, quindi sul petto, sotto le ascelle e soprattutto lungo la schiena, permette al corpo di buttare fuori in eccesso tutto il sudore in eccesso lasciando solo una lieve pellicola che è quella che permette al fisico appunto di termoregolarsi e non avere più la sensazione del bagnato a pelle. Però allo stesso tempo, nel momento in cui soprattutto d'inverno andiamo a fermarci quindi con una pausa, attraverso questi canali si può immagazzinare il calore che abbiamo trattenuto, che abbiamo prodotto e lo viene trattenuto proprio per non incorrere in raffreddamenti eccessivi. Questa quindi è la coltre, chiaramente, sempre al concetto di compressione. Sopra la nostra speed ho indosso un antivento, diciamo vest, la nostra windsfare vest, manica smanicata. Abbiamo anche la versione, chiaramente, a manica lunga. Questa è un antivento e antipioggia con una parte sulla schiena, invece libera in tessuto, con sempre la lavorazione tridimensionale che permette appunto di riportare all'esterno tutta l'umidità e il sudore in eccesso che abbiamo creato già con lo che ho dimostrato. Quindi, in condizioni come queste, io sono perfettamente protetto dal freddo in qualsiasi situazione, senza nessun tipo di problema, andando a camminare, fermandomi, pause, correndo. Il benessere deve essere attivo per tutti, per chi corre ad alti livelli e anche per chi cammini.